Casi in aumento a Torre Annunziata. Certificati infatti 12 nuovi casi nelle ultime 72 ore, a fronte di 213 tamponi processati con un indice di positività pari al 5,63%. Allo stesso tempo si registrano tre nuove guarigioni. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 51.415. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 23.317, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 28.098. A Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino, non è stata registrata nessuna nuova guarigione, ma è stato certificato un nuovo caso positivo. Attualmente, in totale, ci sono ancora 13 pazienti ospedalizzati e 91 contagiati in isolamento domiciliare. Infine, secondo il bollettino regionale, in Campania sono stati registrati 313 nuovi positivi su 20.883 test effettuati. Ottime notizie per quanto riguarda la vaccinazione, visto che sono state superate le 8 milioni di dosi somministrate. Complessivamente, al momento, sono stati vaccinati con la prima dose 4.223.018 cittadini. Di questi, 3.697.104 hanno completato la vaccinazione con la seconda dose. Sono invece 79.937 le terze dosi. È stata quindi raggiunta la soia dell'80% di vaccinati con ciclo completo, pari a 4.083.236 dosi.